L'aver avuto la certificazione di una nostra tesi che è quella di un abuso in questa provincia e non solo del ricorso al lavoro somministrato. Questa sentenza dice, sottolinea, riprendendo quella che è una sentenza della Corte di Giustizia europea che il ricorso al lavoro somministrato non può essere la normalità della prestazione di lavoro. Ribadisce che la normalità è il contratto a tempo indeterminato e sottolinea la temporaneità e l'eccezionalità del ricorso al lavoro somministrato. Finalmente l'aver avuto una sentenza in questa direzione ci permette di poter intraprendere dei percorsi di stabilizzazione del personale sia nel pubblico che nel privato e quindi riteniamo che sia un importante tassello a quello che è il nostro obiettivo di un lavoro di qualità, di un lavoro stabile, di un lavoro non precario. Ci sono queste problematiche all'interno della Ruzzo ma anche all'interno di altre aziende? Questa sentenza riguarda una vertenza sviluppata all'interno della Ruzzo Reti. Lì dove la percentuale di lavoratori somministrati rispetto al numero dei lavoratori totali supera di molto quelle che sono le percentuali indicate nel contratto collettivo nazionale applicato in questo caso dall'utilizzatore dalla Ruzzo Reti. Il fenomeno è diffuso naturalmente sia nel pubblico che nel privato. Le conseguenze di questa sentenza in questo senso si differenziano. Nel privato possiamo immaginare di intraprendere già percorsi di stabilizzazione di questo personale interinale usato ormai da anni sempre dallo stesso utilizzatore. Mentre nel pubblico per una disciplina diversa di accesso al lavoro pubblico di fatto siamo di fronte ad una possibile sentenza di natura risarcitoria che vanno dalle 2,5 mensilità alle 12 mensilità.